Un confronto tra medici e infermieri sulle patologie del cuore. È stato questo lo scopo del congresso delle associazioni regionali cardiologi ambulatoriali che si è tenuto a Termoli. Una due giorni ricca di interventi e approfondimenti grazie alla presenza di esperti che hanno relazionato sulla cardiopatia ischemica, sull'ipertensione arteriosa polmonare, sullo scompenso cardiaco e sulla morte cardiaca improvvisa con lo scopo di integrare ospedali e territorio per una continuità assistenziale adeguata e condivisa. A parlare delle novità invece in materia di terapia anticoagulante è stato il professor Raffaele De Caterina, ordinario di malattie cardiovascolari alla facoltà di medicina di Chieti. Le novità sono nella messa in commercio in questi anni di nuovi farmaci che per la prima volta dopo oltre 50 anni rimpiazzeranno l'unico anticoagulante orale a lungo termine che è stata, l'unica categoria di farmaci anticoagulanti orali a lungo termine che è stata disponibile che sono gli antivitamina K. La novità è grossa perché gli antivitamina K sono farmaci molto poco maneggevoli e soprattutto che influiscono negativamente sulla qualità di vita del paziente. Il paziente deve effettuare dei controlli frequenti di laboratorio, di solito una volta ogni 15-20 giorni e il farmaco va aggiustato con le dosi in funzione del dosaggio di laboratorio. I nuovi anticoagulanti migliorano dunque la qualità di vita del paziente che non dovrà più sottoporsi ai esami del sangue frequenti per dosare la terapia e soprattutto riducono i rischi di emorragia che invece erano molto elevati con i vecchi farmaci ma in Italia nuovi prodotti non sono ancora disponibili. Due di questi farmaci e adesso anche un terzo sono disponibili in paesi europei e volendo uno li può acquistare. Non sono ancora rimborsati in Italia per motivi essenzialmente burocratici legati alla trattativa che si ha in corso per quanto riguarda il prezzo di questi farmaci. Si attende però che a distanza molto breve di tempo siano addirittura rimborsati e saranno rimborsati per grosse categorie di pazienti. All'interno del congresso anche una sessione dedicata al ruolo e alla personalità degli infermieri la cui figura risulta essere sempre più importante per la gestione del paziente.